Gli alberi dalle orecchie, cinza la sua chioma cellulea soltanto di quercia e con qualche pianda che pendeva intorno alle tempie. Quindi, rivolto al dio delle greggi, disse Il giudice è pronto, si cominci! I panni si mise a suonare la sua rustica zampogna, incantando con il suo canto selvaggio Mida, che per caso gli era accanto. La manifestazione di oggi, organizzata dal Rotary Club Sulmona con la collaborazione del distretto 2090, vuole celebrare il bimillenario della scomparsa di un cittadino illustre di Sulmona, Ovidio. Il Rotary è sempre vicino nelle attività di servizio alle comunità e in questo caso è importantissimo essere vicino alla comunità di Sulmona, in quanto la cultura, la storia, le tradizioni sono sicuramente un elemento fondante, importante della identità della comunità stessa e anche però dello sviluppo economico della comunità, che è una delle delle azioni importanti che il Rotary porta avanti in tutte le comunità locali ed internazionali. E proprio in quest'ambito si colloca questa manifestazione di oggi. Noi non possiamo fare altro che ringraziare il nostro governatore per il sostegno che ci ha dato e che l'organizzazione anche di questo splendido teatro, dove tutto ha funzionato alla perfezione, con illustri oratori che hanno parlato di questo nostro illustro cittadino per questo evento così importante che ricorda quest'anno, che è quindi il bimillenario della sua morte.